Dopo quella sul partigianato meridionale, al Polo del Novecento è stata presentata un'altra importante banca date sul periodo della Resistenza. L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia raccoglie oltre 5.000 episodi che hanno causato più di 20.000 vittime. Per ciò che riguarda il Piemonte si registra 2.872 vittime per 567 episodi di violenza. Un lavoro imponente voluto dal Consiglio regionale e finanziato dalla Repubblica federale tedesca, promosso dall'AMPI e dall'Istituto Ferruccio Parri che ha coinvolto 130 ricercatori. È un lavoro di straordinaria importanza che ha visto circa 90 ricercatori mettere la loro ricerca e il loro impegno e che consente oggi di dire che in Piemonte ci sono stati circa 2.702 morti per circa 600 episodi di stragismo. Un'altra finestra che si apre su quei 20 mesi di lotta partigiana che sono stati certamente momenti di grande valore e di eroismo ma anche di grande dolore.